amici cripto investitori eccomi qua ben ritrovati a tutti quanti scusate il ritardo ma stavo guardando se era il caso di aprire la posizione short oppure no non sto scherzando ero lì che stavo guardando i grafici intraday perché sto aspettando appunto una certa reazione come vedete bitcoin è lì proprio sta prendendo a testate l'area più importante in assoluto del grafico e come sapete io che sto cercando la copertura short insomma avevo identificato come il nel retest di quest'area a seconda del metodo ovviamente con cui verrà retestata un eventuale punto dove andare a incrementare un pelino la posizione short alla fine non l'ho ancora fatto perché in effetti sull'intraday non c'è ancora un segno di offerta sufficiente in ogni caso non volevo iniziare così in quarta perché dei grafici se ne parla più o meno a metà live volevo salutarvi innanzitutto e darvi appunto il ben ritrovati vi voglio vedere belli carichi perché è una situazione curiosa questa di bitcoin da un lato abbiamo un'opportunità che è il ritracciamento il ritracciamento lo vedo come un'opportunità perché è un'opportunità perché comunque permette di sgonfiarsi un po il mercato permette di rilassarsi un po al bull market in corso va a segnare dei nuovi livelli chiave ci permette di trovare dei setup più puliti insomma un ritracciamento è fantastico per secondo me chi va a cercare delle entrate un po più pulite perché finché corre a rialzo io non lo so voi come fate a regolarvi per il trading ma io sono molto molto a disagio pertanto insomma io sono le fasi che seguo sempre con maggiore interesse da un lato perché ci sono opportunità anche di ingresso long di acquisto e dall'altro perché ovviamente per chi come me è esposto di default long possedendo i bitcoin ovviamente deve stare attento a coprirsi perché altrimenti nel caso di ritracciamento prolungato insomma fa abbastanza male non è il caso di stare lì insomma a guardare e basta quindi questo è un po il tema della giornata di oggi grafici alla mano dobbiamo un po capire quali sono gli scenari quali sono i livelli chiave da seguire come comportarci in base alle diverse reazioni con i vari livelli solita storia insomma giorno dopo giorno aggiorniamo le nostre analisi andiamo a vedere un po come si stanno evolvendo se gli scenari sono sempre gli stessi e così via chi mi segue su telegram è già sul pezzissimo perché io praticamente ogni giorno su telegram comunque le analisi su bitcoin le aggiorno a meno che proprio non ci sia il nulla più più assoluto non ci sia nulla da dire per quanto riguarda le notizie che anche quelle sono un modo molto bello secondo me per iniziare questi live visto che buttiamo lì un po di argomenti di discussione e poi voi se siete incuriositi interessati potete chiedere approfondimenti domande tutto quello che vi passa per la mente ho trovato allora ve l'ho condiviso anche questo anche su telegram ci sono ovviamente col passaggio di consegna tra il l'ex presidente trump e il nuovo presidente biden ci sono un po di cambiamenti chiaramente nell'amministrazione e insomma a vari livelli uno dei primi provvedimenti è stato quello di congelare il quella proposta di legge vi ricordate mossa dalla fincen che è il lente di vigilanza sulla criminalità finanziaria principalmente che aveva proposto vi ricordate quella cosa molto antipatico ovvero di fare il kyc di obbligare gli exchange a fare kyc anche in caso di prelievo verso un wallet che è una rottura di scatole incredibile perché se tu prelevi dall'exchange che ne so al tuo ledger tu devi dimostrare che quel ledger lì è tuo quindi associarlo ai tuoi documenti in qualche modo e questo ovviamente non è neanche bello lato privacy comunque è molto invadente molto rognoso e va comunque a complicare molto le cose è stata messa in pausa al momento perché il presidente biden con il suo staff e gli eventuali ministri direttori che va a identificare come nuove persone in carico dovranno revisionare queste nuove proposte e poi ovviamente vagliarle e decidere loro un'altra cosa interessante è da si chiama janet yellen mi pare sì e sostanzialmente è una persona a capo del dipartimento del tesoro scelta appunto da biden e ha mostrato una sorta di ambivalenza nei confronti delle cripto perché è interessante anche capire come la nuova amministrazione si porrà nei confronti del delle cripto valute di bitcoin perché i cambiamenti possono essere bene possono essere male questo secondo me non è male perché quantomeno è stata considerata vedete questo è un testo scritto da lei divulgato comunque con ovviamente il marchio del dipartimento del tesoro lo trovate se volete poi vi condivido anche il link l'unico punto dove tratta bitcoin ne parla da un lato come una grossa opportunità dicendo caspita è veloce è smart è borderless bisogna sfruttarlo dall'altro lato saltano ancora fuori le storie della criminalità eccetera 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 quindi se da un lato vabbè siamo un po alle solite con questi discorsi e lei dice espressamente che bisogna creare un framework di regolamentazioni opportuno che è corretto secondo me basta che non sia troppo opprimente dall'altro insomma ci vede un'opportunità da sfruttare e questo secondo me è molto molto bene io mi auguro che appunto con questo cambio di amministrazione si abbracci un po di più il panorama cripto bitcoin perché comunque è interessante anche iniziare a lavorare con la nuova presidenza in una direzione costruttiva io me lo auguro sempre poi visto che abbiamo parlato spesso di liquidity mining su loop ring inizia il round 2 il giorno 25 di gennaio ok io ve lo segnalo sempre perché è un'opportunità interessante per chi vuole giochi chiaro un po con la defi a basse fee basse fee perché è un layer 2 di ethereum quindi non ci sono le gas fees di ethereum a parte nella transazione di migrazione dal layer 1 da ethereum al layer 2 che è l'unica transazione a carico di ethereum poi ci si muove sul layer 2 e è abbastanza snello cioè sono praticamente nulle le fee e sono istantanee le transazioni allora per adesso non ci sono ancora i volumi secondo me del aspettate che sblocco il mio wallet così ve lo mostro c'è un bel po di liquidità tra l'altro su loop ring ultimamente sta crescendo veramente tanto questo dex e con lui anche il token e io ho aggiunto alla mia watch list anche il token di loop ring perché di fatto insomma sta facendo un bottom potenziale un po sporco non è uno di quei grafici che piacciono a me però potenzialmente potrebbe essere un bottom interessante se poi va nella direzione di continuare ad assorbire ad aggregare liquidità perché non darci un'occhiatina in ogni caso vi dicevo in sostanza dando liquidità ai soliti pool chiamiamoli che sono lrc ether no wbtc ether no aspettate ci sono scritti qua eccoli ether die ether usdc e lrc ether per l'appunto si può farmare lrc inoltre ci sono alcuni pool sponsorizzati chiamiamoli questo modo tipo quello di engine engine ether si farmano gli engine coin veth si farmano gli lrc senza impermanent loss perché questo veth è una sorta di ether migrato sempre per il discorso dello staking di ethereum 2.0 è lo staking tokenizzato quindi bene o male non dovrebbe cambiare di prezzo e poi ci sono altre altre robe che manco conosco a dire la verità che boh lascerei lì dove sono però può essere un'opportunità interessante come liquidity mining a fee contenute e mi aspetto anche degli apy abbastanza alti perché gli scorsi round cioè lo scorso round si aggirava tra il 50 e il 70% non male durano poco è però sono da sfruttare eventualmente allora io parto con le vostre domande non perdiamo tempo perché ci sono tante cose da dire mercoledì vedendo una alt quasi al suo all time high in btc ragionavi su una successiva seconda leg puoi spiegare meglio qual era polkadot forse se non ricordo male era dot btc fammi controllare yes eccola qua è lei è lei polkadot guarda la sta sfidando proprio i suoi massimi locali perché guarda in sostanza andiamo a vedere sul settimanale perché è lì che abbiamo fatto poi le nostre linee se questa settimana dovesse chiudere sopra questo quest'area 51.600 sat sostanzialmente è un segnale notevole perché comunque vabbè è un po' violenta come risalita perché di fatto è parecchio aipata polkadot in questo periodo e la cosa un po' mi spaventa sapete come sono fatto a me spaventano i movimenti parabolici però al di là di questo non si può negare che andare a bucare una resistenza così forte e idealmente andarci a prendere anche la liquidità che si trova qua sopra perché comunque insomma è un segno che serve secondo me la presa della liquidità pertanto io vorrei vedere un andamento di questo tipo guardate adesso una l'ideale sarebbe un ritracciamento e poi una ripartenza però vabbè lasciamo stare le mie fantasie io ho un po' il fetish per i ritracciamenti per i breakout retest quindi lasciamoli lì dove sono no quello che vi volevo dire al di là degli scherzi volevo vedere la rottura del massimo che all'incirca è 50 60.000 sat arrotondiamo quindi prendere la liquidità qui nel frattempo poi chiudere la candela settimanale che ormai ci siamo perché oggi è venerdì andarla a chiudere sopra a questi due livelli marchiati di giallo e questa per me è un di fatto con buona probabilità un higher high quindi una continuazione rialzista una volta fatto ciò si aprono le porte al setup chiaramente sul retest di questa stessa area poi c'è da vedere il metodo con cui di fatto va a fare l'higher high perché a seconda di quanto è distante dal precedente da dove va a chiudere la candela si può decidere come pianificare l'entrata in maniera che sia sensata e non troppo distante né troppo vicina al massimo stesso per ottimizzare i rischi che è sempre l'obiettivo principale delle analisi dei grafici spero di averti soddisfatto andiamo avanti ciao luca complimenti per la tua trasparenza e spontaneità grazie davvero sto studiando i tuoi bot trend follower lavorano bene su time frame 4 ore io lo uso su 12 ultimamente riesco a guardare i grafici massimo una volta al giorno e cercavo qualcosa su time frame più bassi per seguire i trend guarda io al momento sto testando per quanto riguarda i bot che mi sembra sia l'argomento di tuo interesse dunque quello lì sul trend follower che dici tu te l'ho detto sulle 12 ore boh a proposito mi è entrato uno short da poco e che è questo qua ok in sostanza è entrato short anche lui un po' di tempo fa vediamo adesso come si comporta è quello sull'incrocio delle medie mobili sulla pendenza di una media mobile ne ho parlato in un video l'ho spiegato anche bene poi abbiamo un altro che utilizzo che è un po' più ignorante guarda lo vedete anche voi guardate quante posizioni spamma a volte è questo qui sul che si basa sull'rsi 2 in sostanza lui va a vedere filtra sul trend quindi va a vedere se il prezzo è sopra o sotto una certa media mobile banalissimo filtro sul trend e poi va a cercare di shortare o allongare in base se è sopra o sotto nei momenti di dip o pump localizzato ok spamma tantissime posizioni e questo cioè il senso di questo bot è lui ne spara tante la maggioranza vanno in stop loss perché lavora su un trailing stop stretto però quelle che la lascia correre che funzionano compensano le perdite storicamente no ho sbagliato non volevo aprire il promemoria chiudiamolo volevo farvi vedere i risultati storicamente è così vedete ci sono periodi lunghi in cui lui comunque viene massacrato e poi a volte rende bene tendenzialmente il significato di questo bot è questo gli altri non guardate lì neanche perché sono in fase di test questo qui sul breakout non sta performando granché avevo aspettative più alte torniamo a noi dove siete dove siete eccoci allora 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 ciao luca scusa la domanda da neofita che non devi scusarti perché benvengano considerando sembra una leva di uno per che differenza intercorre tra l'andare short su margine quindi con prestito di bitcoin e l'andare short sui futures perpetual bella domanda non è affatto da neofita anzi è già un livello avanzato questo questo argomento te lo spiego subito il margin trading quindi prendere in prestito bitcoin in sostanza costa di più questa è la banale risposta perché tu hai le fee spot che sono più alte delle fee dei perpetual hai la commissione del prestito che solitamente si aggira intorno adesso non ricordo esattamente la cifra però è un po rognosa perché te la fan pagare ogni ora quindi il prestito aperto è un po una rottura di scatole non si tratta di fee stratosferiche però incidono un po in particolare se usi leve che iniziano a essere un po significative tu parlavi di leva uno per quindi andare short in leva uno per equivale a una vendita ok a uscire in usdt nessun altro niente di più niente di meno questo è shortare in leva uno per sia che sia margine sia che sia col future coin margin quindi con collaterale bitcoin diverso è ovviamente se tu sei con margine tether ok perché sai che ci sono due tipologie di future perpetual quelli collaterializzati dalla cripto stessa e quelli collaterializzati da tether se è collaterializzato da tether se vai short ti stai già esponendo al ribasso al contrario se è collaterializzato da btc tu stai di fatto uscendo in usdt è quello che stai facendo poi quando chiudi lo short è come se rientrassi motivo per cui io faccio le coperture in questo modo col perpetual attenzione tu hai la funding fee che di solito è ogni otto ore ogni ora su ftx ogni ora su binance by bit bitmex e più o meno tutti gli altri ogni otto questa funding fee è variabile non prevedibile ok quindi attenzione anche a questo se usi il future a scadenza al contrario non hai la funding fee quindi non hai variabili strane però hai un prezzo che si discosta un po dal prezzo spot è un tema un po complicato quello dei derivati e merita forse un po più di attenzione credo tra l'altro di aver fatto un po di video abbastanza noiosi dove spiego cosa sono quindi se ti va buttaci un occhio perché sennò qua veramente faccio addormentare tutti se mi ci metto a parlare ciao luca no questo lo abbiamo già letto qual è il modo migliore per non restare incollati sui grafici tutto il giorno guardando le candele che salgono e scendono guarda io ti dico impostati un come si può definire una routine tua dove tu vai a guardare i grafici quelle tre volte al giorno ok per risistemare i livelli e poi nel momento in cui tu vai a guardare i grafici identifichi la probabilità degli scenari quindi vai a guardare la struttura tra l'altro avevo fatto un video dedicato proprio a questo come organizzare la giornata tu ti guardi la struttura e ti identifichi i potenziali livelli dove aprire posizioni ti metti tuoi alert e basta ok poi torni magari dopo 4 5 ore rifai cioè aggiorni i livelli torni ancora la se cioè mattino metà giornata sera supponiamo e fai la stessa cosa ok quindi senza star davanti al grafico tutti i giorni tutto il giorno perché è deleterio e peggiora veramente tanto la performance perché uno più sta davanti ai grafici peggio va perché ti viene ad aprire posizioni più spesso ti viene più più smania quindi conviene davvero darsi delle regole rigide e rispettarle perché altrimenti ne va della performance ne va dei risultati io tengo bitcoin dietro e non me ne abbiate ma io lo devo osservare a tal proposito allora ciao luca dobbiamo aspettarci un'altra correzione più forte a breve bella domanda eccoci allora ve lo dico subito la sfera di cristallo dice sì lei dice sì no scherzi a parte dipende molto dall'andamento dalla chiusura di oggi dipenderà molto e anche da domani cioè da questi giorni immediati perché abbiamo appena perso un livello importantissimo e questo è un messaggio bearish ok quindi ci vuole un segnale che mostri che questo se questo messaggio bearish è falso quindi in sostanza una smentita da parte dell'offerta l'offerta deve spegnersi adesso se l'offerta si spegne e la domanda recupera il livello oppure fa capire che adesso lateralizza non lo so fa una sorta di bart inverso che fa capire che appunto l'offerta si è spenta allora questo è un buon segno e pertanto potremmo poi riprendere il livello stesso e quello è un setup long addirittura al contrario se adesso si ripresenta offerta in questo esatto momento è perché adesso stiamo facendo il retest dal basso di quel cluster lì è un momento chiave questo è fondamentale quindi se adesso si presenta offerta c'è una buona probabilità di continuazione ribassista tra poco guardiamo meglio ciao luca prova a convincermi a fare holding nel 2017 sono rimasto quasi con il cerino in mano perché è entrato in burran da allora ho sviluppato una mentalità per cui il prezzo si muove a cicli e sto cercando di sfruttare questi macro movimenti ad esempio ora sono fuori dai 38.600 e non penso di rientrare poiché vedo più probabile comprare a un prezzo minore grazie allora dipende tutto da che cosa tu vuoi fare ok prova a convincermi a fare holding non sono io che devo convincerti perché io lo faccio però nel frattempo tramite la speculazione copro dinamicamente la mia posizione cioè se vedo un rischio di correzione non è che holdo e fisso il grafico che crolla no io cerco comunque di coprirmi esponendomi quindi a rischi di sbagliare perché se faccio una copertura e poi pompa ancora io vado a perdere capitale quello è un rischio che si prende quindi bisogna capire fino a che punto si è in grado di fare questo perché è facile credimi dire vabbè adesso è cresciuto tanto vendo e aspetto che scenda ok questo a parole è veramente facile lo dicono in tanti anche nuovi arrivati no dicono si è cresciuto adesso vendo e compro più in basso sì ok ma vendi dove a che prezzo compri più in basso a che prezzo e se non ritraccia cosa fai cioè ci vogliono scenari per qualsiasi eventualità perché dire vendo in alto e compro in basso saremmo veramente tutti super ricchi se fosse così facile da capire quindi può succedere che ottiva di culo e ci becchi che vendi magari al massimo e compri dopo un discreto ribasso ok ma non pensare di poterlo fare a lungo nel tempo perché la fortuna ha una durata limitata di solito statisticamente le botte di culo non si ripetono molto spesso quindi attenzione perché se tu fai trading sai come farlo sai come gestire impegnare il capitale sai come insomma strutturare il tuo rischio benissimo meglio molto meglio che oldare alla cieca però se non lo sai fare è meglio oldare oppure rimanere fuori oppure gestire un portafoglio con una percentuale liquida una percentuale di bitcoin da ribilanciare dei metodi di investimento abbastanza semplici insomma senza impazzire sul cercare di vendere in alto e comprare in basso perché ogni errore che fai poi lì cercando di fare questa operazione ti va a fare avere meno bitcoin di quanti ne avevi prima quindi non ne vale la pena veramente il rischio di questa controindicazione è molto molto alto quindi questo è un po il mio pensiero ecco oldare anche quello ovviamente è una presa di posizione perché se uno olda come anche ho scritto oggi in maniera provocatoria su facebook di fatto è long è posizionato long quindi se io oldo bitcoin sto dando per scontato che salga nel tempo ok io sono il primo a crederlo però se avessi torto anche lì conviene avere sempre una strategia di uscita ok una protezione una copertura sapere quando vendere sapere quando ci si sta sbagliando perché altrimenti oldare attraverso dei downtrend ti disintegra veramente il guadagno l'importante è avere un piano una strategia che preveda tutti i possibili scenari dal migliore al peggiore perché se si trascura il peggiore anche se è poco probabile supponiamo di dare di stimare una probabilità per cui da domani bitcoin va in downtrend per cinque anni ok che probabilità gli dareste voi 2 per cento 1 per cento 0 5 per cento molto bassa però se succede cioè lo 0 per cento non esiste secondo me e se succede è la fine cioè siamo rovinati perdiamo un sacco di soldi quindi bisogna tenerla in considerazione per quanto rara perché è quel famoso cigno nero che se ci cogli impreparati ci massacra tutto quanto scusate la digressione andiamo avanti allora ciao perché guardi sempre il mercato perpetual di btc e non quello spot che differenza c'è cosa cambia nella loro formazione guarda in realtà nulla di particolare il mercato perpetual tra l'altro guardo ancora il grafico di bitmex che non uso da ormai non so quanto bitmex però ormai ci avevo disegnato tutti i livelli quindi ho ottenuto quello il grafico perpetual media il prezzo di varie exchange quindi non lo so mi dà un'idea un po più di massima poi la liquidità è tutta sui perpetual più che sullo spot quindi è un'abitudine soprattutto perché io poi speculo di fatto sui perpetual e non sullo spot tendenzialmente a questo quando c'era lui le live erano puntuali meriti un portafoglio 100 per cento ripple no ma oggi ho la scusa ve l'ho detto perché adesso io sto guardando l'intraday visto che sta approcciando proprio lì perché l'intraday è importante in questo momento visto che il dal punto di vista daily ha perso il livello chiave se l'intraday conferma quella cosa lì con un impulso di offerta è un momento dove vorrei andare a ricaricare un po lo short ad aumentare un po lo short ok quindi per quello sono stato un po tituba detto dai fallo prima dell'inizio del live però non l'ha fatto quindi mi tocca ancora aspettare allora forse te l'ho già chiesto farai un video su nexus mutual cosa ne pensi del progetto oppure preferisce altre piattaforme analoghe io ho letto qualcosa sul token e mi sembra interessante o quantomeno diverso dalle altre alt perché il prezzo dovrebbe variare in base all'adozione della piattaforma più o meno sì è interessante e pensavo sì di fare un video sul settore assicurativo nella defa in generale perché è veramente un tema molto interessante molto molto caldo ciao luca hai visto che botto che ha fatto sand hai mai sentito parlare delle sales di land di the sandbox hai voglia sì sì io ci ho anche partecipato io ma a me piace molto come progetto il settore del gaming non va sottovalutato va seguito secondo me quel pump lì forse un po è anche dovuto non so alla notizia di engine coin vi ricordate che in giappone è stata autorizzata come moneta per il gaming come cripto valuta per il gaming dall'autorità finanziaria giapponese quindi forse ha dato un po di slancio a tutto il settore le vendite delle land io ti dico io preferisco paradossalmente come investimento avere la land che il token sand questa è un po la la mia idea quindi io sono abbastanza pro ecco ciao luca hai sentito parlare di efforts walk walks il coin lanciato da un co-founder di apple secondo te può avere davvero secondo te può avere qualche possibilità oppure sono le solite shit coin lanciate con un nome di un personaggio rinomato è la prima cosa che ho pensato ti dico la verità ma non la conosco quindi non mi espongo perché non so esiste un token sul petrolio come pax gold e sull'oro no non esiste però se non erro aspetta fammi vedere fammi controllare perché se non sbaglio su synthetics non so se l'hanno già fatto ma ci dovrebbe essere su synthetics exchange dunque dov'è 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 synthetics oil il il sintetico del del petrolio stesso s oil eccoli qua infatti 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 guarda scusate questo piccolo tempo morto ma è interessante come tema eccoli qua vedete la quello long short addirittura esiste e dunque non è pegato cioè non ha come sottostante dei barilli di petrolio in sostanza però prende il feed di prezzo tramite chain link che synthetics usa chain link e basta sostanzialmente puoi speculare sul petrolio tramite questi sintetici c'è qualcosa di più da dire perché synthetics è un po più complesso che soltanto il detenere il token perché c'è tutto il discorso del debito però insomma esiste ed è questo andiamo avanti dunque aspettate tac tac ecco che vi ho perso ok allora ciao luke ma il programma shitcoin non doveva ripartire lunedì hai ragione hai ragione mi sono un po perso in altre cose adesso lo facciamo ripartire datemi un attimino di tempo e lo rilanciamo come si deve vogliamo un video tutorial su duck dao e su polka starter non ci sono contenuti in italiano e sono piattaforme ottime purtroppo non le conosco quindi devo informarmi in primis mercoledì vedendo un alt quasi ok questo l'abbiamo già detto ciao luca conosci snow swap non lo conosco buonasera a tutti ciao ciao a tutti ciao a tutti visto che candelone hbar urge una tua analisi sul grafico andiamolo a vedere hbar btc allora vediamo benissimo bel candelone vero qua c'è c'è domanda c'è della gran domanda allora è stato rotto di fatto il livello che faceva un po da zona di resistenza qua e adesso questo stesso livello volendo può diventare un livello di supporto si può estendere anche fin qui tac andiamo a vedere sul giornaliero sul giornaliero effettivamente è arrivato quasi a sfiorare la resistenza successiva ed è bello carico quindi potrebbe addirittura non ritracciare però io personalmente non gli correrei dietro se non ritraccia e se dovesse ritracciare una buona area d'ingresso eventuale tra i 180 e i 230 satoshi personalmente è insomma è un grafico che ancora non mi sconfinfera più di tanto perché ripeto è come se fossi in un grande range che va da questa zona di minimo questa area qua tac fino a insomma sarebbe più o meno qui il range in questa zona come range high però poi c'è questa punta un po' anomala però ecco è un range ancora una forte lateralità quindi va bene in effetti dicendo che è un range questo si può andare a definire come rimbalzo sul range low e quindi come setup long in questa maniera con target proprio quelle aree lì bene allora torniamo su btc e torniamo a noi ciao luca ma tu acquisti direttamente in dollari o cambi prima gli euro in usdt per poi comprare cripto guardi io non compro in fiat da veramente un sacco di tempo e il grafico in dollari è perché speculativamente operando sui futures i futures sono apprezzati in dollari quindi io di solito seguo questo mercato per questa ragione ciao luca buonasera volevo chiederti un commento su base protocol e come vedi il concetto di stable coin pegata al market cap guarda una bella domanda cioè la conosco e ce l'ho presente non mi dice tutto cioè non lo so mi sembra un po' forzata il voler fare queste stable coin legate a cioè le stable coin algoritmiche ok cioè se sono stable ha un senso se sono legate al prezzo di bitcoin alla market cap ad altro non lo so mi sembra che lasciano un po' il tempo che trovano mi sembrano più dei giochini speculativi che altro non ci trovo una reale un reale senso perché non è neanche stable poi e quindi non sono un grande fan ecco troppo tardi entrare su link ma perché ma perché ma perché allora link btc e ha fatto un bel salto a me è passata una piccola parte di posizione qua se vi ricordate ve l'ho condivisa insomma tutto tutto il tempo questo questo piccolo test questo questa pesca di liquidità e poi adesso se diretta dritta dritta contro la resistenza quindi l'area questa qua 65.000 fino a 69.000 è la prossima resistenza dalla quale si può dedurre che se la rompiamo bene tanto meglio prosecuzione rialzista nuovo setup long perché questa diventa un supporto e può diventare un eventuale entry area sul prossimo ritracciamento se rifiuta si ripropone la medesima area qua sotto quindi caso 1 bullish retest su questa nuova area caso 2 bearish attenzione di nuovo all'area qua sotto quindi no direi che non è assolutamente troppo tardi attenzione ottica speculativa perché ottica di investimento non è mai troppo tardi qualcuno dice però mediare il prezzo d'acquisto è sempre prioritario allora ciao luca quale al coin ha reagito meglio a questa situazione secondo te in particolare synthetics guarda tutte tutte le al coin le al coin stanno galoppando non so se tu hai guardato ma pompa pure tezzo cioè sta pompando qualsiasi cosa contro bitcoin chiaramente quindi io ti dico le al coin sono veramente veramente cariche guarda la dominance è in downtrend è partita quindi insomma niente da dire le al coin sono belle cariche l'alt season continua per capirci ecco non c'è nessun segno di rallentamento andando individuare un possibile primo target dove potrebbe iniziare a rallentare un po potrebbe esserci questo questo low però non so quanto ha senso poi fare analisi di questo tipo il 62 per cento non lo so io finché il trend continua ci sono i segnali che ben sapete io continuo a essere positivo nei confronti delle alte adesso direi decisamente sì non ce n'è una messa male perché hanno tutte fatto comunque delle strutture di high low crescenti questo è il motivo per cui guardando la dominance si capisce già tutto perché si muovono in sintonia le al coin guardate ad esempio ave che la seguivamo ha fatto un break ha rotto un'altra resistenza adesso è lì che bisogna vedere se la ritesto no poi che cosa abbiamo fatemi vedere ether ether anche lei bam ha rotto di nuovo a rialzo non la ferma più nessuno injective protocol che qualcuno mi ha fatto notare anche lei galoppe in una maniera incredibile synthetics altra coin assolutamente positiva ecco qua c'è un livello chiave 34.000 36.000 che è curioso se andasse a pescare lì caspita sarebbe una bella occasione poi cosa abbiamo abbiamo yearn che anche lei vedete ha iniziato a fare higher lows higher highs nonostante non abbia tutta questa forza insomma le altcoin si stanno muovendo un po all'unisono a parte ripple che vabbè ripple ormai spero che non la consideriate neanche più è veramente un giocattolino una scommessa è diventata con tutte le robe che ci sono dietro comunque torniamo a noi allora intanto vedo che vi state abbonando in un po io vi ringrazio ringrazio molto di cuore chi si abbona al canale twitch con amazon prime lo potete fare gratuitamente vi ricordo integrandolo con twitch gaming amazon gaming non mi ricordo non so mai come si chiama potete abbonarvi gratuitamente costo zero per voi piccola donazione per me è un modo per sostenermi e poi ogni tanto adesso vi ho ricominciato a scillare la promo di blog fai perché qualcuno me lo me lo chiedeva in privato su telegram ma c'è ancora la promo di blog fai sul deposito si c'è ancora e quindi se volete approfittarne insomma finché c'è adesso è a tempo indeterminato che io sappia dovete utilizzare il link che vi compare ogni tanto in chat oppure su youtube ve lo lascio in descrizione e poi sul primo deposito dopo l'iscrizione avrete un bonus due mesi e mezzo dopo di un controvalore che è proporzionale ovviamente al deposito fatto ok questi sono i sei livelli che potete ottenere potete depositare qualsiasi cripto che sia stable coin bitcoin qualsiasi cripto va bene e il bonus viene accreditato in bitcoin quindi è una un modo anche quello per accumularne un po e ovviamente è una piattaforma assolutamente buona altrimenti non vi non vi scillerai il bonus così solo fine a se stesso torniamo a vedere dunque 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 le vostre domande dunque dove siamo arrivati siamo arrivati qua sbf secondo donatore di biden che ne pensi e che guarda lui lui è molto furbo e si muove molto bene io lo seguo proprio per quello perché a me comunque interessa come dire seguire i soldi seguire il capitale perché andarci contro non ha senso quindi va seguito e bisogna vedere quello che fa dove la gente furba mette le mani lo fa per guadagnarci quindi ha senso seguirli insomma l'ho sempre fatto l'ho sempre detto ciao luca partiamo col botto a ribasso ma no dai secondo te ci potrebbero essere ulteriori ribassi adesso lo vediamo ciao luca ma secondo te la coin che proponevi per il 2021 consigli di oldarle anche dopo il ciclo di btc ma guarda io ve lo dico spesso nel senso le altcoin sono volatili sono rischiose bisogna sempre considerare anche quello il fatto che comunque il c'è volatilità nel mercato da investitore non dovrebbe fregarcene perché dovrebbe fregarcene da trader se io sono investitore dovrei avere un piano più sul lungo termine mirato ad abbassare il prezzo di carico quindi ben venga che si abbassino no perché uno dovrebbe appunto puntare a minimizzare il prezzo di carico secondo ovviamente la sua strategia di investimento buonasera luca quando ho cominciato a seguirti avevi poco più di 2000 iscritti su youtube volevo ringraziarti e complimentarmi per la qualità del tuo lavoro ti ringrazio sei anche tu uno dei dei veterani di questo canale mi fa sempre piacere vedervi che sapere che voi c'eravate anche quando facevi video col mio laptop con la luce con la luminosità al massimo per avere un po di luce in faccia perché altrimenti sembrava un fantasma nell'oscurità bei tempi bei tempi con testa di bronzo dietro ciao luca come vedi bnb usdt supporta 37 può essere un'ottima entrata ma andiamolo a vedere andiamo andiamo bnb usdt però mai detto allora il supporto a 37 sì però 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 ha fatto cioè questo costrutto che sta facendo non mi piace granché sai perché ha fatto un high un higher high con un equal low quindi non lo so mi sembra mi sembra un po deboluccio sai come struttura perché il fatto di fare un higher high e un equal low cioè rischia di fare una sorta di testa e spalle non so se mi spiego cioè è difficile andare a fare un higher high adesso dopo quest'ultimo dump per questo motivo mi spaventa un po io credo che aspetterei ti dico la verità anche perché bnb usdt dipende fortemente da bitcoin e quindi tu immagina lo scenario di prosecuzione ribassista di bitcoin questo di sicuro ti va a perdere il livello chiave di sicuro magari no ma con ottima probabilità quindi non lo so mi sembra un po rischiosetto sono sincero se prima era un buon livello tant'è che l'abbiamo segnato proprio per quello se noi andiamo a vedere il time frame settimanale guardate chiude qua e d'altronde si è comportato bene in queste due settimane perché di fatto il suo lavoro lo fa l'unica cosa te l'ho detto è questa questa debolezza che si vede anche sul settimanale perché se chiude così ha fatto un engulfing bearish quindi non lo so non non mi piace granché al momento bnb usdt forse preferirei aspettare un pelino di più qui c'è un altro clasterino di domanda sui 34 altrimenti c'è la zona qua sotto sui 31 e 12 circa con scusate con pool di domanda annesso qua sopra volevo farlo eccolo evidenziarlo tac e quindi non lo so sì credo che potrebbe essere un pelino prematuro adesso posizionarsi sui 37 dopo quella quel test numero quei test numerosi che ha fatto mia opinione ecco ciao luca perdonami se mi ripeto ma vorrei sapere com'è possibile che bitfinex è reputato di grandissima sicurezza da coin gecko e coin market coin market coin coin market caps nonostante abbia fatto perdere ad agosto il 36 per cento dei fondi dei loro clienti guarda io non so in base a cosa vengono dati punteggi mi pare che però abbia coperto no con quella cioè non abbia di fatto causato perdite agli utenti penso che abbia coperto di sua tasca le perdite mi pare luca una domanda essendo esposto long spot su btc la copertura può essere pensata vendere spot qualora dovessimo perdere un supporto importante intorno ai 28k o è meglio optare su uno short a margine mantenere la posizione spot long guarda non cambia nulla nulla di nulla l'unica differenza è se usi una leva perché se usi una leva per la copertura spot ti basta metà del capitale ok quindi poi magari non lo so riesci a gestirti meglio con gli stop loss con varie cose ecco mentre la uscire dalla posizione poi devi ricomprare eventualmente lo stop loss sarebbe ricomprare non lo so non cambia niente dal punto di vista concreto è perché uno short di copertura equivale ad un take profit della percentuale di copertura dello short volendo ci sono anche le opzioni per coprirsi però forse lì si complica un pelino ci andiamo a complicare un pelino la vita che dire guarda vedi tu come come ti piace di più la cosa vedi vedi un po tu io mi trovo meglio col marcio con con i futures perché mi vado vado ad aprire una posizione me la riesco a contabilizzare meglio poi sul mio sul mio journal sul mio piano ma è una questione meramente mentale davvero ho letto qualcosa sul rischio che c'è di duplicare un bitcoin ma cos'è ecco quella cafonata di articolo che è stato scritto dai media ecco questa è l'ennesima prova che i media sono puro sensazionalismo l'articolo che è stato scritto dove dicevano che c'è stato un double spending su bitcoin è una fuffata incredibile finalizzato soltanto a fare clickbait in realtà è una riorganizzazione della blockchain a volte succede che vengono minati due blocchi contemporaneamente in sostanza poi al blocco successivo uno dei due rimane orfano si dice e la blockchain prosegue poi nella sua direzione e si riarrangia da sola è organico è completamente organico capita anche spesso a volte è raro capitano anche di più di uno i blocchi le riorganizzazioni quindi non è un double spending non è successo nulla in sostanza se vi interessa capire dal punto di vista tecnico andate a dare un'occhiata al profilo di antonopoulos su twitter che ha spiegato bene per filo e per segno cos'è successo se invece non vi interessa del punto di vista tecnico sappiate solo che non è successo niente quindi non curatevi degli articoli sensazionalisti dei media che puntano appunto a fare solo traffico allora ragazzi io direi 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 che possiamo andare a vedere un po di grafici direi proprio di sì perché siamo a 40 minuti e passa stavo leggendo ancora un paio di domande hai uno scanner per individuare alt potenziali da studiare guardi io non sono tipo da studiare alt io di solito ultimamente mi prendo un'oretta al giorno per studiare un progetto defy poi 9 su 10 li reputo proprio inutili quindi sono ore perse figuratevi se studiassi tutte le altcoin butterei via le giornate in maniera clamorosa no scherzi a parte io seguo un po su twitter il sentiment generale di alcune persone che reputo affidabili e in base a quello se vedo che citano dei certi progetti allora magari me li vado ad approfondire però non sto a diventare matto ecco guardo molto su twitter seguo appunto profili di alto profilo che comunque so essere affidabili magari i fondi tipo il pantera capital di turno three arrows capital tutti quelli lì che investono comunque in progetti che reputano interessanti loro per primi e quindi magari quelli me li vado a vedere però non non ci sto a diventare matto come scanner guarda io ogni tanto lo cito questo ma tradingview tradingview con la g magari tradingview.com ha uno scanner delle cripto se vi interessa semplicemente andare a fare una scansione per parametri guardate mercati criptovalute screener cripto in sostanza con questo potete andare vi fa vedere tutte le cripto esistenti e potete andare a inserire tipo da qua diverse colonne con dei parametri di analisi tecnica potete andare a modificare i layout potete filtrare quindi dire fammi vedere solo quelle che che ne so io hanno hanno fatto un nuovo massimo nell'ultimo mese hanno una volatilità maggiore minore di insomma c'è veramente potentissimo come strumento questo ve lo consiglio se vi interessa appunto avere uno screener che ne so voglio vedere tutte le coin che hanno fatto un nuovo massimo negli ultimi due mesi flaggi ti fai il tuo il tuo layout apri e ti trovi la schermata con quelle cripto lì e può essere interessante le cripto con volume maggiore di un miliardo di dollari al giorno non so quante ce ne saranno forse nessuna un milione diciamo boh tac te le trovi tutte lì ok è veramente un bello strumento ve lo consiglio anzi ve lo linko anche così potete anche giocarci un po' tac credo che ci sia anzi sono abbastanza sicuro su nella versione free di trading view quindi senza particolari insomma prerequisiti e pagamenti da fare torniamo a noi btc grafici allora guardate sono partito del settimanale involontariamente perché di fatto il settimanale come dire mostra che non sta succedendo niente di spaventoso nascondiamo un attimo i disegni quindi non facciamo del terrorismo è inutile fare del terrorismo non c'è la fine del mondo l'apocalisse il crollo e quindi bisogna considerare che questo è un ritracciamento durante un bull market questo è il punto di partenza ok il macro è bullish molto forte è vero abbiamo perso la prima candela settimanale adesso non voglio scarabocchiare perché poi voglio far ricomparire comunque i miei disegni e guarda caso la candela settimanale l'apertura qua che è un livello che si può definire interessante è proprio 33k cioè il top del nostro cluster sul giornaliero quindi vanno vedete a sovrapporsi molto spesso i livelli chiave sui diversi time frame quindi che dire posizione di partenza asserzione di partenza ritracciamento durante bull market niente bear market niente crollo niente fine del mondo niente apocalisse ma penso che sia scontato ma vale comunque la pena specificarlo andiamo al grafico giornaliero ok allora il grafico giornaliero anche senza disegni che poi le andiamo ad aggiungere vanno a completare ci fanno vedere che abbiamo fatto lower high lower low e quindi la struttura ahimè ha iniziato a invertire sul giornaliero di nuovo contestualizziamo il tutto perché la struttura invertita sul giornaliero non vuol dire bear market ok sia chiaro questo vuol dire che la struttura attuale del mercato è ribassista sul breve sul giornaliero fino a prova contraria ok quindi poi bisogna chiedersi quale può essere la prova contraria quali sono i setup operativi che il grafico ci suggerisce perché a dire ok è così a cosa frega niente se poi non c'è un setup operativo un metodo per approcciare un mercato del genere no diventa un'analisi sterile fino a se stessa quindi andiamo a vedere un po adesso arricchendo il grafico con i nostri livelli i nostri disegni e le pippe mentali che cosa ci dice no perché i grafici parlano abbastanza chiaro a volte questa è una di quelle abbiamo avuto allora un bull market fortissimo iper esteso con pochissime pause l'ultima pausa che è la più vicina al top questo è il top l'ultima pausa è stata questa il cluster giornaliero famoso 32 33 mila di cui ormai vi ho fatto una testa così nonché supporto principale cioè primo supporto fino a che non viene perso che è prima base di come dire primo prima linea di difesa ecco dei bulls è stata attaccata un bel po di volte qua è stata attaccata pam 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 tre volte a fila la difesa ha retto benone perché poi come vedete ha ripartita verso l'alto tuttavia l'offerta e la domanda erano un po equipotenti perché come vedete si è formata una figura di indecisione un triangolo lower eyes si mi impappo sempre lower eyes higher lows triangolo simmetrico isoscele come lo volete chiamare figura di indecisione lateralità ok e noi avevamo detto bene lateralità durante un bull market di solito ve l'ho citato negli ultimi video di solito può già essere un setup long di per sé però qua siamo in una condizione particolare quella di iper estensione l'iper estensione va trattata molto con i guanti cioè ci fa trattare il mercato con i guanti perché lo rende più fragile lo rende più vulnerabile quando un mercato è iper esteso il rischio aumenta è inutile negarlo il rischio di turbolenza di improvvisa volatilità di movimenti fuori controllo aumenta perché c'è più open interest ci sono più posizioni aperte e queste buttano tanta benzina sul fuoco così tanta benzina sul fuoco basta che una scintillina che in questo caso può essere un ordine di vendita un po grosso vada ad accendere l'incendio ad appiccare l'incendio e poi si scatena una turbolenza importante ok quindi il rischio è sempre proporzionale all'estensione del mercato prima o poi infatti arriva il punto di rottura non si sa mai quando è il punto di rottura finché non accade perché se fosse prevedibile sarebbe troppo bello e saremmo tutti ricchi però insomma una volta che vediamo che continua a crescere possiamo comunque dire che dobbiamo trattare il mercato con i guanti con la consapevolezza del rischio alto e questo è ciò che in maniera concreta mi ha fatto dire non vado ad aprire il setup long preventivo nonostante la lateralità durante bull market non sono neanche andato ad aprire lo short preventivo perché anche quello è una mossa un po azzardata cioè sì si può dire ok è iper esteso short perché tanto prima o poi crollo ok ma sapete molto meglio di me che la fomo è galloppante e quindi a fomo galloppante andare a aprire degli short così senza particolare senso sì si può dire ok metto lo stop sopra i massimi e tutto quanto ma quante volte succede che te lo va a prendere così e poi torna giù cioè è turbolento il mercato bisogna fare molta attenzione il momento in cui inizia a dare una direzione si può iniziare a seguire quello scenario lì è un po meno rischioso in particolare se la direzione è quella del ritracciamento perché un ritracciamento è dovuto ormai è da tempo che lo si dice lo si vocifera qualcuno mi dice sì è ogni volta tu dici che ritraccia è vero ma non perché io prevedo il futuro e voglio dire domani ritraccia tra un mese ritraccia qualcuno mi ha detto quanti quanti guadagni che ti perdi a dire così ogni volta che ritraccia è un discorso che non ha senso permettetemi di dire perché a parte che comunque il mia il mio piano d'azione non mi ha fatto perdere niente perché sono spot long sapete come mi sto comportando e poi è un discorso da fare col senno di poi quello di quanta perdita perché se il mercato avesse dampato allora uno dice ah cacchio meno male che ho shortato meno male che sono uscito e quindi col senno di poi poi dici ah beh è vero era detto lo si era detto che ritracciava ma non è così che si ragiona perché non si può sapere il futuro e quindi bisogna ragionare ottimizzando i rischi in base al proprio piano e al proprio posizionamento sul mercato consapevoli di non poter sapere il futuro perché per quanto ne sapevamo può pompare per un altro mese consecutivo come poteva dampare un mese fa non si poteva sapere bisogna solo sapere che il mercato è a rischio nel momento in cui l'estensione continua tornando più concreti vaneggiando un po meno adesso abbiamo un segnale iniziale di direzionalità che è quello di perdita del low scorso quindi di fare un lower low di fatto il triangolo è stato rotto a ribasso e oltre al lower low abbiamo perso anche il cluster di prezzo 32 33 per il momento questi due segnali sono entrambi segnali bearish sia chiaro inequivocabile però ovviamente rimane aperto il senso della turbolenza perché siamo comunque in una fase di fomo ancora ed è non così assurdo pensare che questo questo dump localizzato potrebbe subito essere riassorbito e quindi qua ci si prospettano in sostanza dei diversi livelli di operatività a diverso rischio il primo è lo short ora tac vedete sta ritestando bearish retest io shorto ebbene e questo è un setup ci può stare basato sul fatto che abbiamo perso il livello non abbiamo ancora conferme cioè abbiamo solo la chiusura di ieri non abbiamo conferme di follow up e quindi il rischio di questa posizione è discretamente alto volendo si può anche dire che tutta questa è un'area di bearish retest perché qui abbiamo il vecchio low e quindi potrebbe andare a pescare qua prima di continuare a ribasso questo è un altro setup aggressivo in quanto anticipatore la seconda ipotesi che abbiamo è di aspettare una reazione sul low time frame cosa vuol dire vuol dire che sul high time frame abbiamo la conferma di breakdown del primo giorno bene siamo tornati a ritestarla sempre sul daily non sappiamo l'esito ok la candela chiude a fine giornata quindi ci vorrà un po di tempo nel frattempo però cosa si può fare guardare l'intraday che accade nell'intraday andiamo a scoprirlo insieme quattro ore allora quattro ore abbiamo un una sorta di zona di un cluster di un blocco una stasi del prezzo abbiamo un dump molto forte qua vedete impulsivo e che vede protagonista la domanda ha provato a perdere anche in 29.870 che è un altro vedete questo clusterino con la lente di ingrandimento si vede è il livello intraday cluster l'abbiamo chiamato è un altro è il prossimo livello di supporto in sostanza 29.870 è stato sfiorato zac così e la domanda si è fatta sentire abbastanza con violenza poi questa candela anche è curiosa guardate che roba l'offerta in questo caso ha impedito il perché la domanda aveva provato a fare ha riassorbito aveva provato a ripartire subito ma l'offerta gliel'ha impedito questo è un segno di offerta poi al decrescere del volume perché quando ci si allontana comunque dal momento clou che in questo caso è il falso break della resiste del supporto i volumi tendono a decrescere perché non è più il movimento in sé ok non è più vivo e vegeto il movimento è un po la coda lo strascico in questo caso lo strascico è stato di domanda un follow up di domanda che ci ha riportato vedete in questa zona qua ok quindi sulle quattro ore abbiamo un riferimento in più volendo che è l'area 32.500 32.700 ok quindi il breakout il recupero cioè fare un breakout da qua ok così è un segnale potenzialmente più bullish che mi fa passare la voglia di shortare ok perché c'è buona probabilità che andiamo a sfidare 33.900 il vecchio low giornaliero e quindi poi da lì si vedrà un po più di cose si sposta in avanti l'operatività al contrario se le quattro ore fanno capire che c'è ancora offerta che su un costrutto del genere purtroppo non è facile perché di fatto dovremmo andare a fare un lower low per per confermarlo fino ad allora ahimè la cioè essendo comunque un'area rettangolare senza livelli intermedi è difficile dirlo però se ci se si palesa offerta engulfing bearish e lower low allora può essere già un segnale di short anche se non ancora chiuso la candela giornaliera ok esempio se la candela adesso delle quattro ore va a chiudere qua ecco questo può essere un segnale di short da queste parti per andare a fare il compounding quindi mi attiva lo scenario retest short prima della chiusura giornaliera e quindi questa è una opportunità altrimenti si va ancora più giù nell'orario cosa che insomma come sapete aumenta sempre di più il rumore perché più si va si avvicina il time frame più diventa rapido più il rumore prende il predominio in questo caso vedete abbiamo qualche livello in più di riferimento abbiamo questo abbiamo questo e abbiamo questo quindi se si palesa offerta cioè se da queste parti si mostra domanda tac oppure tac allora ti passa la voglia di shortare al contrario se abbiamo chiusura rossa chiusura rossa robe del genere senza domanda ti viene voglia di aprire il setup short questo è un po' il discorso high time frame low time frame messi insieme per aiutare a capire no dove per fare un'analisi più veloce senza dover aspettare la chiusura giornaliera altrimenti molto molto banalmente si aspetta la chiusura giornaliera il follow up di domani magari di solito tra 1 e 3 candele mi piace pensare e in base a come si comportano decidere dove insomma il flusso di ordini se è verso cioè a favore dell'offerta o a favore della domanda come si fa a capirlo beh se oggi facciamo il reclaim ovviamente è bullish e basta addirittura se facciamo il reclaim anche dei 33.970 è un low reclaim e questo potrebbe essere addirittura un setup long c'è da dire che essendoci una candela unica dovrebbe chiudere qua sopra cioè fare un engulfing bullish per dare di fatto un setup long quindi esempio chiusura qua sopra c'è il setup long sul retest di questa zona ok si inverte ancora di nuovo la struttura cioè questo diventa un falso breakdown non si è mai invertita vuol dire se al contrario la candela di oggi che ne so chiude dove si trova adesso non dice nulla perché non dice non dice da che parte si va cioè non dice domanda balla o offerta balla quindi c'è da aspettare il follow up di domani e di nuovo o sul low time frame 4 ore e vedere la struttura lì come si muove oppure di nuovo la chiusura giornaliera la perdita innanzitutto di questo low e inoltre dei 29.870 va a dirmi che comunque c'è follow up di offerta e quindi se vediamo che c'è il rifiuto persistente di quest'area ci sta andare a comporre lo short andare a incrementare lo short o ad aprirlo se al contrario quest'area rimane divorata grattata in continuazione senza un rifiuto netto non ci sta lo short perché c'è comunque domanda evidente queste sono un po' le varie possibilità in caso poi di continuazione ribassista abbiamo i prossimi livelli sotto i 29.870 abbiamo 27.750 poi abbiamo questo pool dell'intorno dei 26.000 e poi il range 22.750 23.880 sono sempre quelli i livelli chiave e quindi questi possono essere sempre visti come altri livelli sui quali studiare l'operatività e vedere se eventualmente andare a incrementare lo short in caso di sempre palese offerta 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 sempre con attenzione perché poi più si va a incrementare lo short più ci esponiamo dalla parte opposta e dobbiamo stare attenti quando chiudere uno short di copertura quando c'è un setup long ok banalmente quindi un primo setup long ve l'ho detto è questo reclaim con facciamolo da qua fin qua quindi in caso di reclaim di quest'area io andrei a chiudere quel piccolo setup short quella piccola posizione short che sono andato ad aprire altrimenti la tengo aperta e punto al compounding allo stesso modo i vari reclaim tac 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 così quando dopo aver perso i livelli sono dei setup long per chi non vuole shortare perché ci sta magari uno non vuole shortare e dice boh io preferisco o andare ad accumulare di più in futuro quindi che ne so un ragionando da investitore c'è chi lo fa segue i downtrend e non è che dice boh io compro alla cieca mentre scende rischiando poi di andare a fare un'operazione non ottima ma nel momento in cui ci sono poi i reclaim di inversione quindi del downtrend che ha terminato il ritracciamento andare a rientrare lì lì sì che medi il prezzo di carico in maniera anche intelligente perché comunque tu hai già dei segni di struttura che riprende e vai a entrare senza nel frattempo esserti esposto durante il downtrend che non sai quanto dura di nuovo fino a che non hai il senno di poi ovvero finché non è terminato comunque questa è la situazione su btc adesso vediamo in base alla violenza alla forza con cui riapproccia questa zona si può decidere se incrementare lo short oppure no oppure senza saperne leggere e descrivere lo si potrebbe già fare adesso uno short fino a prova contraria bene andiamo avanti con le alt io sono esposto su ether che continua a rialzo ve l'ho detto l'ultima volta ci ha sfiorato di nuovo questa resistenza rotta e poi è ripartito alla grande è veramente molto bullish Ethereum in questo periodo e tutto verde tac al momento sta sfidando l'ultima area di resistenza che è un'area un po' come dire trafficata quindi non me la sento molto di andare a prendere posizioni in questa zona perché come vedete ci sono numerosi numerose aree di top numerose 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 punte numerose shadow quindi quest'area per me è un'area un po' off limits insomma se proprio volete provare a prendere posizione se c'è qualche speculatore ovviamente non perché ve l'ho detto io ma perché lo volete fare voi io non do consigli finanziari lo ripeto ogni volta lo so che è una rottura di palle però lo dico non si sa mai che a qualcuno venisse in mente di pensare che io gli sto dicendo cosa fare è una condivisione in ogni caso vedete qua effettivamente c'è un livello forte quindi questo livello potrebbe già essere visto come un potenziale entry long ok quindi ci può stare a patto che chiudiamo il settimanale sopra di esso ma cosa che ormai è quasi scontata adesso a meno che ethereum non mi smentisca in questi giorni e basta quindi è possibile sì vedere un entry long in questa zona e basta non c'è altro da aggiungere su ethereum perché poi ve l'ho detto c'è quest'area un po' trafficata poi c'è il vuoto fino a un bel po' quindi una volta bucata questa zona sì che piovono i setup long anche di lungo periodo perché tutto questo diventa un mega bottom molto interessante link ormai ve l'ho già detto ho preso posizione anche lì purtroppo in parte perché sapete che io volevo prendere posizione in un in un'area ok me ne ha fillato uno di due degli ordini era due terzi dove me l'ha fillato e un terzo un po' più giù non me l'ha fillato su telegram trovate tutto comunque in tempo reale a prima dell'apertura della posizione prima non dopo prima l'avevo già condivisa e quindi basta questa è un po' è un po' la situazione mia attuale sto tenendo d'occhio lo sapete ave c'è cardano anche che qualcuno me l'aveva chiesto cardano l'avevamo ne avevamo parlato prima ancora di cioè di dell'opportunità di long che c'è stata avevamo identificato il pool di offerta testardo vi ricordate sia su telegram che nei live questo pool di offerta adesso è stato invertito perché è stato rotto qua ok da lì in poi era diventato un entry area quindi guardate è già stato praticamente fillato tutto chi è entrato lì ha fatto una buona mossa adesso c'è da vedere che non dampi di nuovo perché comunque vale sempre la regola di stop in caso di riassorbimento oppure di riassorbimento dell'intero impulso di breakout quindi andare a finire qua sotto stoppare qua sotto e però ecco che dire mi sembra ben impostato perché ha rotto nonostante io sapete non sono un grande amante di cardano speculativamente ha ben impostato perché ha rotto un livello di offerta importante quindi molto bene e poi che dire le altcoin è veramente un discorso vago perché ce n'è tante se ne potrebbe parlare per ore delle altcoin quindi non saprei neanche quali guardare scegliete io non sceglierei quelle a posizione 80 o quelle robe pseudo sconosciute ma ci si può tranquillamente attaccare a quelle più capitalizzate che tanto sono ben messe anche loro vi ho fatto vedere cardano ave ce n'è veramente tantissime dove si può shortare senza grosse fees guarda io prediligo molto ben molto prediligo molto binance futures io utilizzo quello 0.04 per cento di fee anche da ordine a mercato penso sia il minimo in assoluto scontabile del 10 per cento pagandoli in bnb e di un altro 10 per cento col bionreferra link che trovate in giro su youtube insomma quindi molto molto buono e poi è binance quindi non ha bisogno neanche di presentazioni liquidità alta volumi alti e così via è diventato il mio nuovo exchange preferito assieme a by bit però uso di più binance futures in questo periodo me ne rendo conto allora amici io vi saluto perché siamo un'ora e 05 e altrimenti qua va per le lunghe ne avremo di cose da dire ma penso che possiamo tranquillamente continuare lunedì le cose importanti ce le siamo dette l'importante è non farsi prendere dal panico non pensare all'apocalisse non agire emotivamente guardare il grafico che parla chiaro guardate come è regolare è veramente molto regolare con i massimi e i minimi si comporta bene i livelli chiave si comportano bene è quasi troppo bello per essere vero l'importante è poi agire nel senso non guardare i livelli e rimanere lì e per poi dire è andata così dovevo fare così col senno di poi no bisogna agire in modo da avere un piano sia che adesso torni a ripompare sia che domani dampi bisogna essere esposti in maniera ottimale chiaramente questo non vuol dire comprare al minimo e vendere al massimo che non esiste vuol dire aver essere esposti in modo tale da non rovinarsi in alcun caso e nel caso che reputiamo più probabile da ottenere comunque il massimo guadagno possibile questo è un po il senso dell'ottimizzazione basta non vi annoio più vi ringrazio per avermi seguito vi faccio un augurio di un buon weekend ci vediamo lunedì e vediamo bitcoin dove lo troveremo chi lo sa un carissimo saluto e a presto